L'area svolge attività di metodatazione, digitalizzazione, cura e conservazione dei patrimoni culturali e del patrimonio della ricerca scientifica. Parte integrante dell'area digital curation è il progetto di SDL, Sapienza Digital Library, è un progetto frutto della collaborazione tra il consorzio interuniversitario Cineca, DigiLab e il sistema bibliotecario della Sapienza. Il primo tassello di questo intervento è stato l'adozione di una piattaforma Code XML Digital Library per la creazione di un Digital Global Archive in grado di gestire, conservare e far fruire risorse digitali culturali. Il principale obiettivo di SDL è quello di gestire e comunicare, aggregandoli in un'unica piattaforma, i patrimoni documentali digitali della Sapienza, presenti nei dipartimenti, nelle biblioteche, nei musei, negli archivi e poi materiali provenienti da soggetti terzi. Un altro significativo progetto dell'area è MUVIR, che è nato dalla collaborazione fra Labbi, l'Associazione delle Banche Italiane, Cineca e DigiLab. L'obiettivo di MUVIR è la creazione di un museo virtuale che raccolga le decine di migliaia di opere che compongono le collezioni delle banche italiane. L'aspetto peculiare di MUVIR è di offrire all'utente, oltre alla visualizzazione bidimensionale delle opere, anche quella tridimensionale, in un ambiente virtuale, allestito come se si trattasse di un museo. Nel laboratorio di digitalizzazione e metadatazione si acquisiscono risorse analogiche in formati non compressi, con la possibilità di intervenire mediante strumenti e software per la correzione e imperfezioni dovute alle fonti. Il laboratorio è fornito di scanner ad alte prestazioni tecnologiche. Dal master in alta definizione creiamo la descrizione, analitica e la metadatazione degli oggetti secondo gli standard internazionali. Questo laboratorio costituisce una preziosa risorsa per la didattica e la formazione per la digital curation. Troppo 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 Grazie a tutti.